E' tornato in città l'uomo tigre, per chi non lo sapesse come si chiama? L'uomo tigre di Aula, Giuseppe Tirolongo. Io voglio dire un grazie alle telecamere del Canale 8 e alla nostra grande giornalista che mi sta intervistando con tanto di onore. Quando è tornato? Ma sono tornato un dieci giorni fa, ho sfidato quasi tutta l'Europa se non mi avessero fregato la bicicletta a Pozzo 9. E questa bicicletta da dove viene? Ma questa qua ne me l'hanno regalato, come me l'hanno regalato altri sei il signor Capitta, dell'allenatore della Pippo Caruso, Landeri, il barbiere accanto ci sta uno che vende giustamente salumi, cose, un'altra bicicletta Sanduccio me l'ha regalato un altro, al bar Gambringhi comunque ho visto che è un'aula veramente a livello internazionale e ha capito quello che ho fatto io, ragazzi, ho fatto Sicilia, Italia, Granata, Portogallo Giro di Santiago, Pirenei, Francia, Belgio, Germania, Podistan mi venne fregato la bicicletta purtroppo i casi della vita sono misteriosi ma la Tigre non si è fatta battere perché oggi come oggi su questa rete la Tigre vi dice a livello internazionale io sono un grande ma quello che si è fregato la bicicletta gli auguro che possa girare tutta l'Europa come la stavo girando io Quali posti visiterà? A giugno si partirà, a metà giugno si partirà da Granbringhi cioè nel bar dove io risiedo, alle casse popolari in quanto devo fare di nuovo Sicilia, Pozzonaini dove mi hanno fregato la bicicletta poi devo fare Cipolonia, Bocchettino di Russia e poi accosterò tutte le zone di qua io purtroppo ho fatto sognare quasi l'Europa nel senso che a Pozzonaini quando fu io giustamente che feci la denuncia per la bicicletta mi dissero non è possibile poter fare con una bicicletta 466 km in 22 ore siccome io ero stato fermato nell'autostrada della Germania allora hanno displegato e hanno trovato direttamente che la grande Tigre di Aula aveva fatto veramente con la bicicletta questa diciamoci impresa ragazzi ditemi una cosa oltre il limite della nostra pluralità ci siamo noi e la nostra pluralità siamo noi cerchiamo di capire chi siamo io Tiger S. Maschera la grande Tigre di Aula ho portato un grande estremo sporto qui a Aula un zembice ciclista amatoriale venuto dal nullo bene allora buon viaggio la ringrazio e ringrazio Canale Hot da Tiger S. Maschera ciao